56esima fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna. Dal 24 ottobre al 14 novembre appuntamento con degustazioni, stand gastronomici, il museo del tartufo e il nuovo format della ristorazione. Special guest Enzo Iacchetti e poi i cooking show di Moreno Cedroni, Alessandro Negrini, Luca Montersino e Giorgione. La capitale del tartufo ti aspetta.